Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono code per il traffico intenso in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. Rallentamenti per il traffico intenso tra Barberino di Mugello e il Vivio con la variante di Valico in direzione Roma. Rallentamenti per il traffico intenso anche tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Aglio in direzione Bologna. In FIPL in rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze e per i cantieri della linea 3 della tramvia fino a sabato divieto di transito in via Pisacane tra via del Palazzo Bruciato e via Mazzoni. Si segnalano rallentamenti per il traffico intenso sui viali. Muoversi in Toscana Info in servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!